Benvenuti su Gossip Globe. Prima di iniziare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di Martina Giovannini, una giovane talentuosa recentemente eliminata da Amici23, ma che ha già ricevuto una proposta sorprendente. Martina è stata eliminata dalla scuola, ma questa è diventata l'occasione per un nuovo inizio. Sebbene triste per l'addio, è soddisfatta del suo percorso e grata per le persone conosciute. Dopo l'eliminazione, Martina ha espresso come la sua esperienza ad Amici l'abbia aiutata a migliorare nella gestione del palco e nell'interpretazione delle canzoni, affermando di essere felice di essersi sbloccata. La sua uscita non è stata priva di controversie. Anna Pettinelli ha contestato la decisione, entrando in conflitto con il giudice Cristiano Malgioglio, che ha difeso la sua scelta con vehemenza. Nonostante l'eliminazione, per Martina si apre una porta nel mondo dello spettacolo. Ha infatti ricevuto un'offerta per un contratto discografico e un ruolo nel musical Ufame, che girerà l'Italia. Luciano Cannito, ex coreografo di Amici, è colui che le ha offerto questa fantastica opportunità, osservandola e apprezzandola da tempo. Nel frattempo, un altro evento interessante ha coinvolto la maestra Celentano, che ha presentato il suo ultimo libro, Chiamatemi Maestra, dove condivide aspetti inediti della sua vita lontani dai riflettori. In conclusione, la vita di Martina è un esempio di come, nonostante le difficoltà e le delusioni, ci possono sempre essere nuove opportunità all'orizzonte. Grazie per aver seguito questo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale per altri aggiornamenti.